Ciao, sono Annalea Antolini e oggi vi parlo di performance e di danza di ricerca. In questo ambito è fondamentale mettere insieme il visibile e l'invisibile, grazie al corpo fisico, al corpo emotivo e sottile, del performer e dello spettatore, che insieme costituiscono un organismo unico, capace di cose straordinarie. Tantissime sono le performance e altrettanti i performer, per cui vi propongo un brevissimo escursus con una mia nomenclatura di performance. Inizierei con la performance di sradicamento, quella che attribuisco a Merce Cunningham e John Cage, che hanno veramente sradicato tutto quello che veniva prima e dettato delle nuove prospettive, per poi muoverci verso la performance del fluire di Trisha Brown con le sue accumulation e la performance del respiro di Anna Alprin e la sua Planetary Dance, per giungere poi alle grandi sperimentazioni della non-dance, per esempio con quelle di Jérôme Bell, che amo definire performance dell'essere se stesso, e giungere alla performance dell'accoglienza con Akran Khan, Sidilarbi Cherkawi, di cui dopo vedremo un brevissimo passaggio di questo abbraccio dell'abbracciarsi nell'etere, per concludere poi con la performance della Metamorfosi. E qui chiamo Alessandro Sciarroni con il suo invito a girare costantemente pagina e a disegnare un nuovo capitolo della nostra esistenza. Alessandro Sciarroni con il suo invito a girare costantemente pagina Inip Charlie, mi Il suo invito a girare costantemente pagina Yerusha With Sheila With Sheila Il nostro corso www.mesmerism.info Il nostro corso www.mesmerism.info www.mesmerism.info